Alla vista dei carabinieri ha tentato di darsi precipitosamente alla fuga, ma è stato comunque fermato e trovato in possesso di mariguana e cocaina, così per un giovane di Castiglion Fiorentino di 32 anni sono scattate le manette in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo ieri pomeriggio quando durante un servizio di prevenzione la pattuglia ha notato il ragazzo che alla vista dei militari ha mostrato subito un atteggiamento di palese imbarazzo. Alla richiesta di fermarsi ha tentato poi la fuga a piedi. Dopo una breve rincorsa il giovane è lanciato in un campo un mazzo di chiavi, ma è stato raggiunto e fermato dai carabinieri. A seguito della perquisizione personale il 32enne è stato trovato in possesso di un grammo di mariguana, ma insospettiti dal lancio delle chiavi i carabinieri dopo averle recuperate hanno perquisito anche il garage corrispondente all'interno del quale, nascosta sotto una catasta di legna, è stata trovata cocaina divisa in due bustine per un peso complessivo di circa 25 grammi. Il giovane è stato quindi arrestato e poi, come disposto dall'autorità giudiziaria, rilasciato in attesa di giudizio.